Ciao a tutti C'è lì, Jason Find them and get your revenge Grazie a tutti. Vieni qua, stronza. Dove scappi? Sta stronza, minchia, è difficile da prendere. Oh, guarda, due sorelle giamelle. Ora ti ammazza la sorella, stronza. Tu farai una brutta fine. Proprio davanti a lei l'ha chiusa fuori. Ok, ora tocca a te. Minchia, è volata. Aspettarci da un colpo di macete, vediamo. Ok, niente, pensavo che volava. Tanto distruggolette così nessuno si nasconde qua. Certo, potrebbe essere qualcuno, ma non c'è nessuno. Ok, ora sto a letto inutilizzabile. Ok, camminiamo in cerca di una vittima. L'altra ancora, tu stronza, ancora qua. Eh, non si è andata via. Ti prendo a colpire di macete. Volevi? Anche per te la fine. E le due sorelle, giamelle, sono andate. Perché ho spaventato la porta così nessuno si può baricare, non c'è più. Così entra subito se qualcuno viene qua. Ah, guarda che c'è Tommy Gervis. Ho spaccato la finestra così se esce si taglia. E ora entro, stronza, mi ha sparato dalla finestra. Ora mi rialzo. Gli faccio il culo, sta stronza, sta scappando. Ora ti per il sistema anche a te. Vieni qua. In che sti stronzi si sono alleati tutti. Di a tutti qua è difficile. Ok, riprenditi. Oh ma quella là ha il maione della madre di Jason, eh? Ma che cazzo? C'è rubato il maione, deve morire? Deve morire male? Ah, il maione della madre, la mamma è scapponati nell'acqua perché questi qua sono forti. Cioè, ho capito cosa vogliono fare. Certo, mi Gervis, sono questi i maioni, vogliono proprio uccidermi. Con il maione della mamma di Jason, Jason è più vulnerabile. Perché ci sembra sua mamma di Gervis mi può uccidere. Quindi stare attento a cazzo, qua si è buggato. Vieni qua stronza. Ah, è caduta sulla loro trappola. Che scemo. E ora tu sei morta per colpa sua della sua stupidità. E il maione è andato là. La tua amica è morta, è troppo stupido è stato. Ah, guarda che c'è, quella stanza che mi ha scappato prima. Si è nascosta dietro il bagno, pensa che non lo vedo. Cretino. Tu farei una malafina. Come tutti gli altri. Vai Jason, spaccagli l'osso del collo. Che c'è, non riesce a respirare. E va l'inferno, stronzo. Dio a quante figo sta scendigia, sono troppo figa, raga. Ora distruggono tutti i bagno così, come la stessa storia da letta, nessuno si può nascondere se di qua qua. Ci sono fottuti, tutti pensano di nascondersi qua. E allora, resteranno fottuti che non c'è nemmeno una porta. Ancora con il sonzo la cara faccia separare alla 40. Vi sentite le grida si sperentano solo perché salta la luce. Sti piccoli bambini. Ah, una stronza. Prima penso a questa che fuori, faccio prima. Ok, preso. Ha anche il fucile, quindi meglio eliminarla subito. Ora che mi fa fare è solo questa la gola, quindi rifaccio questa. Le altre non mi fa fare, non so perché. Sì, sì, uccidere la madre. Ok, sfondiamo. Eccola là. Ah, Tommy. Ti avevo già ucciso, sei ritornato in vita? No, no, Tommy è il primo giocatore che uccide Tommy. Ok. Come dice Blaster Mola, come va la testa? Ti ho rubato la battuta. Eh, Blastys, stai guardando sto video e ti ho rubato la battuta che mi hai fatto. Che rompo la porta così nessuno si può baricare in caso se qualcuno si nasconde qua. Entra subito. L'ho detto anche qualche 3 miliardi di volte, quindi basta. Ora posso sfonderti tanto subito, le porto, quindi non c'è bisogno, ora che mi sfondo. Ah, sei nell'armadio, ti ho sentito parlare. Stronzo, pensavi che neanche io sentivo. Ok, raga, sono di nuovo Jason. Però stavolta sono arrivato al livello 15, nel senso ero arrivato al livello 15, solo che ancora non ci avevo messo la screen, ora l'ho cambiata. Questa qua è la screen del primo, primissimo Jason, prima che aveva la maschera d'occhio, prima aveva questo, poi dopo se l'ho messa la maschera d'occhi. Questo qua è molto abile perché può correre un po'. Poi si teletrasporta subito, nel senso ti cresce subito. Però guardate, è bella anche la sua arma. Anche se preferisco con la scema cioti, però mi piace un casino quest'arma. Mi sape tutto per sfondare. Ah, guarda che c'è ogni qua. Sono stranza, tutti che mi dicono, fa che io ogni volta che mi colpiscono. E ora mi devo vendicare. Ma comunque raga, volevo dirvi che quando si uscirà anche la storia di venerdì 13 game, ve la porterò. Quindi spero che quando vi porterò la storia, arriviamo un sacco di like per vedere che questa serie vi piace come supporto. non è che per me è per vedere se a voi piace. Ok, dai, ma metti a sfondare. Oh, che stronzo, sono dentro. Chi sfocca sta parete? Ma che cazzo? Ma è scema, cazzo viene da me? Ah no, voglio scappare dalla foresta. Vabbè, ma io sono più veloce. Comunque ragazzo, Jason non mi piace, è molto abile. Senza preferisco la maschera d'occhi perché è più figa quella maschera, però è forte come Jason, eh. Per quale si sporcherà a livello 13. Io sono il 15. Comunque levati sto cazzo di coltello. Non mi pensi di scappare. Ah, sta stronzo. Ti tengo d'occhio. Cazzo sta facendo. Ho visto colpo di picozzo. Anche quest'altro. Io qua stronzo e sfuggi mica. Mi sembra quando nei film non riesco a colpire. Eh, eccoci. E ora faremo ma alla fine. Preparci. Cazzo, gli sto togliendo gli occhi con le dita. Questa sì che bella. Mi ha tolto gli occhi, avete visto tutto il sangue. È una roba da cercare gli altri. Ma presto a portare. Presa. Presa. In testa. Dai, questa fa male. Maletane. Their femmine è fondamentale che so abb р잘 di tutto. Fuori come noi faisci i testimoni. Mmerci. Mχ05, 7i fressi. miedo a perdere. Sei che qua. Putele. Cazzo st detailed. EÁ! le persone devono morire Jason, facciano i suoi Jason mio figlio, sai che tua gift è? no matter what they do to you, you cannot die, you can never die ecco ti ti ho beccato ti sei messo nel saccappello ok l'ho chiuso ora manco puoi respirare non respiro però non è abbastanza devi crepare male ok è già massacrato però ancora viva respira ancora e ancora vivo sei vediamo dopo questo ok è morto qualcuno l'ha visto si è impressionato mi chiamata o ci sono sacco nel pello questa qua l'ho vista nel film mi sembra che l'ho vista in jasonis sì sì altra che mi sembra sia al cento per cento questa questa è una kill bella farò nel gioco nel film così così mi è piaciuta però nel gioco bello ci sto ah guarda ho preso intanto questa qua nel braccio cazzo jason non è tua madre sta strancio ha rubato il vestito strancio eh raga jason si è fermato perché pensava che sua madre non ce l'ha più il maione siccome quella era il maione sua madre lei si è finta sua madre le diceva jason chissà cosa diceva eh questa devi morire male in testa ecco così così ti impari a fingerti che non sei pezzo di merda scherzo se la madre ti è discesa ok vieni qua tu pezzo di merda mi permette che sarei terrorizzata ok vuoi entrare in quella bella villa proprio come mi aspettavo ah anche l'amichetta vabbè ora penso lei è la porta lo sconta subito ora non si possono più baricare eh gli stanzetti dove ti vuoi nascondere bella ti sfonda anche questa porta apre ti prendo tanto ora sei già morta ah bastarda volevo farla con la porta mi sa che deve essere aperta ah insomma mi metto davanti alla porta eh non puoi uscire sei fottuta ora metto davanti alla porta sono abbastanza alte quindi non ci passa e ora farei anche tu una malattina ok la testa stronzetta ok tutti sono andati vabbè dai raga questo video sto durando abbastanza se questo video è piaciuto lasciate un like, commentate e noi ci vediamo al prossimo video